Come è una scuola calcio? Perché è chiaro il concetto di che cosa sia e che funzione abbia una scuola calcio. Vorrei piuttosto rimarcare l'aspetto personale che in qualche modo mi fa essere presente qua ed è un rapporto di amicizia profonda, sincera, condivisa, nata con Alessio da quando come Comitato regionale siamo venuti coinvolti nella storia della denominazione Assata-Shakur che sarebbe stato un incitamento al terrorismo con invito nei tempi più brevi ad adoperarsi perché quella denominazione venisse modificata. Quindi formalmente è stata modificata, non è più a livello federale Assata-Shakur e con Lassata-Shakur ed è una risposta di estrema arguzia e profondamente significativa. Però ripeto, da quella vicenda sulla quale poi anche la magistratura ha dato la propria sentenza, il proprio giudizio, è nata un'amicizia che mi fa essere qua e che personalmente mi porta a condividere tutto quello che è stato detto e che risponde anche naturalmente ad una sensibilità personale. Quindi in questo cammino ringrazio per avermi voluto coinvolgere e nel quale mi sento coinvolto. Grazie, ringrazio la Polisportiva Assata-Shakur per aver coinvolto anche la UISP in questo progetto anche se solo marginalmente. Devo dire che noi abbiamo volentieri aderito a questo progetto per i rapporti che ci ledono con la Polisportiva perché da tanti anni collaboriamo nell'organizzazione del Mundialito e abbiamo fatto tante iniziative insieme perché condividiamo alcuni valori dello sport che la Polisportiva e la UISP insieme condividono, compreso questo discorso del progetto di cui oggi andiamo a presentare. Che al di là dei valori che pone come progetto c'è anche un discorso di fondo che è quello di permettere a tutti quanti anche attraverso dei costi abbastanza bassi la possibilità di accedere a questo progetto. Devo dire che noi come UISP, perché abbiamo un osservatore abbastanza privilegiato della situazione nella città di Ancona, l'attività sportiva ha avuto un calo, forse anche probabilmente dovuto al fatto che le famiglie in questo momento si trova in grosse difficoltà e c'è stato un calo di circa un 20% di soggetti, soprattutto nelle facci giovanili e questo è stato confermato anche dal fatto che ad esempio nell'attività ludiche come ad esempio il centro estivo che organizza il Comune di Ancona c'è stato anche lì un calo consistente, è segno che c'è una grossa difficoltà da parte delle famiglie e come diceva anche il Presidente Sturani precedentemente, le famiglie tagliano dove è possibile tagliare in quello che è tra virgolette in superfluo, che poi superfluo non è effettivamente, perché se voi considerate che l'attività sportiva ha un impatto positivo in diversi, sia sul punto della socializzazione ma anche sul punto del benessere, dello star bene, questo riguarda soprattutto anche forse non le facce giovanili ma forse l'età, le facce più avanzate. Per cui noi volentieri abbiamo aderito, nel limite possibile diamo il nostro apporto anche noi come WISP alla realizzazione di questo progetto, di cui condividiamo sia i valori sia anche l'impostazione che è stata data. Termino qui perché credo che da parte di tutti ci sia stata ampiamente la presentazione di quello che è il progetto e dei valori che è importante.